cari amiche e cari amici continuiamo con quest'ultima parte del Sutra del Diamante vi ricordo che nell'ultimo video ho raccontato la storia di Di Pankara questo grande maestro di Gutama, il Buddha, il futuro Buddha quando ancora non era Buddha che va da Di Pankara gli chiede di trasmettere l'insegnamento di Di Pankara gli dice non c'è nulla da trasmettere poi Buddha si inchina sui piedi e gli tocca in segno di umiltà e quando il futuro Buddha, Gutama, si rialza Di Pankara, che invece è già illuminato da un maestro si inchina davanti a Buddha, al futuro Buddha, Gutama e gli tocca a volte i suoi piedi Gutama non capisce dice ma perché questo gesto tu sei un maestro, io non sono nessuno e Di Pankara sorride poi Buddha si illuminerà Gutama si illuminerà sotto l'albero della Bodhi l'albero dell'illuminazione e lì il primo gesto che farà sarà inchinarsi davanti a Di Pankara che ormai era morto Di Pankara però lì si inchina perché ormai vive nell'eterno presente che comprende perché Di Pankara si era chinato davanti a lui quando ancora non era illuminato perché Di Pankara aveva visto quello che noi chiamiamo futuro va bene e dunque ecco che Gutama diviene Buddha questo è un piccolo riassuntino adesso andiamo avanti con il Sutra il signore Buddha chiese cosa pensi su Buti che ci sia qualche Dharma che il Tatagata abbia appreso da Di Pankara il Tatagata vi ricordo che significa l'essere realizzato il Buddha praticamente e quindi ecco che Buddha dice cosa pensi su Buti che ci sia qualche Dharma che il Tatagata abbia appreso da Di Pankara ecco Buddha gli sta chiedendo praticamente su Buti ma io ho appreso qualcosa tu pensi che io ho appreso qualcosa da Di Pankara perché questa domanda? perché in realtà non c'è nulla da apprendere la verità è un dato di fatto non è qualcosa che impari devi uscire dalla menzogna devi uscire dalla robotizzazione non è una teoria che tu elabori a tavolino apprendere invece vuol dire accumulare informazioni quindi chi non pratica e sta lì a leggere a leggere non fa altro che immettere immondizia poi sarà un'immondizia raffinata sarà un'immondizia fatta anche da brillanti e diamanti ma sempre immondizia rimane arrivare alla verità significa disimparare in realtà ciò che si è appreso e questo ma ripeto anche queste parole che sto dicendo io a chi non pratica sembrano astruse e assurde agli amici del sangue anche che praticano da poco sembrano perfettamente coerenti bisogna disimparare osservare e il vero apprendimento è quello non uno studio mentale ma uno togliersi di dosso e ricordate protino scolpisci la tua statua scrosta michelangelo no togli togli quello che c'è da togliere la statua appare già dentro il bello ed ecco che subuti risponde a buddha nel sud allora la domanda era stata era stata cosa pensi subuti che ci sia qualche dharma che il tatakata abbia appreso da di pancara subuti gli risponde no signore non ce ne sono molto chiaro subuti cos'è che viene trasferito da maestro a discepolo cos'è che viene trasferito amici non viene trasferito nulla il maestro ti stimola perché sei attratto dal maestro altre volte ne ho parlato che differenza c'è tra l'attrazione verso un maestro e l'attrazione verso una persona carismatica la persona carismatica ti attira verso se stessa quindi ti tira fuori da te il maestro invece ti attira nella misura in cui tu ti senti rigettato dentro te stesso tu più ti avvicini alla persona carismatica più sei magnetizzato da lui non è che conosci te stesso più ti avvicini al maestro più comprendi realtà di te stesso e vuoi avere sempre più contatti con il maestro perché vuoi conoscere te stesso perché il maestro è uno specchio e dunque dice ma tu pensi su buddhi che c'è stato qualche dharma trasmesso da Di Pancara e su buddhi che è un bodhisatta avanzatissimo anche lui è un ragionamento realizzato dice no signore non ce ne sono dharma proprio perché c'è la presenza del maestro che ti fa affiorare ciò che hai dentro è normale che il discevolo pensa che il maestro fa qualcosa che il maestro stia agendo in chissà che modo in chissà il maestro non fa nulla il maestro semplicemente parla il discevolo sta attentissimo alle parole del maestro e fa bene a stare attentissimo alle parole del maestro ma in realtà il maestro sa benissimo che quello che gli sta comunicando non sono le sue parole ma è ciò che è nascosto tra le parole il rigettare il discevolo dentro se stesso è quello che il maestro sta comunicando e per fare questo semplicemente il maestro è non è che deve fare qualcosa il maestro ti rende consapevole del tuo potenziale e quello è il tuo dharma e in oriente lo chiamano satsang la presenza del maestro stare semplicemente in presenza dove sta il maestro è importante il contatto con il maestro meditare anche insieme al maestro e c'è questo simbolo bellissimo l'avevo accennato in un altro video del girasole perché il discevolo è il girasole il maestro è il sole il discevolo è il girasole che segue il percorso del sole con la sua corolla sta lì come si muove il sole se il sole è occidente il girasole è occidente se l'oriente il girasole del sole è verso l'oriente sempre presente al sole sempre a presente anche se non c'è il maestro fisicamente le parole del suo maestro e poi attraverso questa relazione capità che la vera presenza è il sole che lui ha dentro di sé e il maestro era appunto si limitava ad indicare la luna a esercitare il suo tra virgolette ruolo di specchio ecco perché quando Buda gli chiedeva tu pensi che io ho appreso da Di Pancara su Budi gli dice no perché sa benissimo che non è qualcosa che si trasmette dall'esterno ma è qualcosa che nasce dall'interno eppure Buda fa questa domanda a Subuti anche perché c'era l'assemblea dei monaci presente quindi gli stanno insegnando anche attraverso il loro dialogo Subuti e Gautama stanno insegnando che in realtà non c'è nulla da imparare e quindi ecco stanno come se dicessero all'assemblea dei monaci stanno fondamentalmente dovete stare con noi stare con noi significa stare con la nostra parola entrare in contatto con noi con la meditazione questo è per far per far accadere poi la meditazione dentro di voi continuiamo con il Sutra il Signore disse e ancora Subuti supponi che una donna e un uomo abbiano rinunciato a tutti gli averi tante volte quanti sono i granelli di sabbia arriva al gancio suppone poi che qualcun altro dopo aver appreso da questo discorso sul Dharma solo una strofa di quattro righe la spieghi agli altri allora quest'ultimo in virtù di ciò genererebbe un grande cumulo di meriti smisurati e incalcolabili allora c'è stato interessante è interessante quest'ultima parte quando dice no sono quattro righe di questo Sutra del Diamante se comprese realmente ti possono portare alla realizzazione solo quattro righe di questo Sutra poche parole un gruppo di parole di questo Sutra se comprese ti possono portare alla realizzazione c'era stato questo maestro Zen che si chiama Wineng che è stato uno dei più grandi maestri Zen nella tradizione e si illuminò proprio con il Sutra del Diamante un Sutra che Wineng chissà quante volte ha sentito che conosceva alla perfezione eppure che cosa accade lui stava in un mercato stava camminando in un mercato e sentiva una persona qualsiasi che era seduta e recitava dal Tauruce il Sutra del Diamante e chissà anche quante volte anche Wineng aveva recitato e che cosa accade che udendo quella parte che tra virgolette a caso Wineng la persona stava recitando mentre passava Wineng fu illuminato ebbe l'illuminazione e rimase immobile poi le persone se ne andarono metterle sui chiuse e lui rimase immobile esattamente come ricordate che a Socrate accadeva con il Diamond anche se quella era un'altra lì era una voce interna che parlava a Socrate che rimaneva immobile più volte è descritto questo fatto che resta in piedi immobile anche per ore una volta andava a bere a casa di amici rimase in piedi per ore però qui invece con Wineng parliamo di illuminazione sentendo le parole si illuminò ecco il Sutra del Diamante e Buddha dice ma anche se un uomo o una donna avessero fatto tante rinunce quanti granelli di sabbia che stanno sul Gange quindi avessero rinunciato tutti i propri e non accumulebbero tanti meriti quanti ne accumula uno che si realizzasse ascoltando quattro righe del Sutra del Diamante ci sta parlando di un valore inestimabile ecco perché il Sutra del Diamante il Diamante è quello che lacera taglia il velo di maglia ma è anche qualcosa che ha un valore inestimabile e poche parole possono portare alla realizzazione se comprese se stimolano la dimensione del silenzio e aiutano a superare il mentale andiamo avanti subito dopo l'impatto con il Dharma fece spuntare le lacrime al venerabile Subuti dopo essersi asciugato le lacrime Subuti parlò a Buddha in questo modo è meraviglioso Signore è più che meraviglioso o bene andato come ha spiegato questo discorso sul Dharma esso ha prodotto in me la conoscenza ma non perché c'è davvero alcuna percezione ma perché i Buddha i signori hanno abbandonato tutte le percezioni questo è bellissimo Subuti si mette a piangere davanti a Buddha davanti all'assemblea dei monici e quindi c'è questa qualcosa si scioglie lui il Sutra del Diamante nuovamente ha colpito ha lacerato questa volta ha toccato l'anima di Subuti che piange e esiste un pianto che è di pura gioia a me capitò per la prima volta in adolescenza c'era un mio caro amico che ha avuto un'esperienza bruttissima ne era uscito fuori e mi ricordo lo rincontrai e mi misi a piangere lo abbracciai piangevo di gioia e il pianto è legato sempre alle emozioni è la tua emotività che inizia a come il fiume strarimpa le lacrime escono dagli occhi nel caso del mio amico la mia emotività la mia gioia era talmente tanta che straripava dal mio corpo attraverso le lacrime e ecco una persona preparata che sente le parole di un maestro e il subuti piange piange perché ora capisce attenzione perché lui gli dice piango perché questo sutra ha prodotto in me conoscenza e mi ha fatto abbandonare ogni percezione l'ascolto l'ascolto di questo sutra e infatti dice proprio le parole dice dice esso non ha prodotto esso scusate ha prodotto in me la conoscenza ma non c'è davvero alcuna percezione perché i Buddha hanno abbandonato tutte le percezioni che meraviglia questo sutra i Buddha hanno abbandonato le percezioni perché ormai sono semplice osservazione del presente e questo accade in Buddha scusate in subuti quando accogliense la conoscenza e che gli risponde Buddha vediamo gli risponde è così subuti meravigliosamente benedetti saranno quegli esseri che udendo questo sutra non temeranno non ne saranno terrorizzati questa percezione di un essere subuti è solo una non percezione tutti quegli esseri dei quali Tata Gata ha parlato sono infatti non esseri e perché perché il Tata Gata parla in armonia con il reale dice la verità parla di ciò che è e non di altro un Tata Gata non dice mai il falso Tata Gata sui buti è sinonimo di vera essenza è le cose così come sono l'essenza in quanto tale grandissimo e grandioso insegnamento il Tata Gata parla in armonia con il reale sta dicendo Buddha è la realtà e quindi le sue parole sono necessariamente trasmissione di realtà perché sono necessariamente reali e attenzione la meditazione buddista non ha le grandi teologie quando era vivo Buddha non è che si stava lì a fare grandi voli pindarici nella meditazione gli amici del canale sanno che il concetto di meditazione discorsiva orientale non ha nulla a che fare con Buddha Buddha diceva semplicemente guarda le cose come sono tutto qui osserva senza interferire sulle cose questo è l'insegnamento questo è l'insegnamento tante volte ho detto che ho pubblicato al momento non so più di 600 video ma in realtà avrei potuto pubblicare un solo video di pochi secondi dicendo semplicemente cari amici osservate bene voi stessi e le cose così come sono punto chiuso il decimo d'oro basta solo un video questo video ma non avreste compreso non avreste compreso perché per comprendere un video del genere ci sarebbe voluto un altro maestro per comprendere un video del genere per questo io continuo a pubblicare a pubblicare video che in video invito poi gli amici soprattutto con le zanga a seguire questi video perché in questa fase sono non dico necessari perché necessari è solo la pratica e l'accadere della meditazione ma hanno un ruolo determinante sul processo di accelerazione d'armica questi video che faccio perché sono oltretutto esprimo non cose mie ma mi rifaccio alla tradizione la tradizione è una in tutti i tempi come sa benissimo chi frequenta il decimo toro ma Buddha la mediazione in realtà al di là di tanti anche lì nei buddhisti tibetani ci sono 6.000 rituali cose da fare ma l'essenza è quello l'India guarda osserva e guarda le cose così come sono pratica e osserva così come sono senza fare attrito hai un mal di testa che direbbe Buddha non lottare col mal di testa osservalo non ti far distrarre non cominciare a dire non dovrei avere il mal di testa perché stare ancora più male osservalo se lo osserverai bene vedrai che si ridurrà questo manifesto questo mal di testa potrebbe anche scomparire se non è legato a qualcosa un motivo fisiologico particolare e in ogni caso se lo osservi diventa non è più un problema e semplicemente devi osservare il mal di testa hai qualcosa che rimorgini dentro il capo ufficio ti ha mandato al diavolo e tu lo vorresti mandare al diavolo e pensi a questo pensiero e anzi a questo pensiero che non doveva mandare non ti opporre a questo ti direbbe il Buddha osserva semplicemente ciò che stai provando il capo ufficio ti ha mandato al diavolo e tu senti in te un sentimento di rabbia vorresti spaccargli la faccia è inutile stare a rimorginare su questo osserva e non interferire e vedrai che questo svanirà o si osservi bene come in meditazione quante volte amici del sangue capita che la mia azione sembra disturbata sembra con questo pensiero poi improvvisamente ci si rende notte che si sta nella consapevolezza e questo pensiero non disturba più come una nuvola vagante lontana da nonno e questa è la meditazione a cui invitiamo Buddha la semplice osservazione e allora ecco perché Buddha dice il Tathagata parla in armonia con il reale non potrebbe essere altrimenti le parole di un risvegliato sorgono dalla scienza dalla assenza di scelta e dunque lui è un canale la realtà passa attraverso il corpo e l'anima del risvegliato e nell'azienda fanno molte volte l'esempio della canna di bambù che si flette al vento è una canna vuota il maestro il suo ego è scomparso il suo ego non esiste più e allora il metodo di Buddha attraverso la semplice osservazione va in profondità devi semplicemente osservare accadere cosa sta accadendo qui ed ora e continua a prendere nota osservi e la rabbia e vedi che la rabbia piano piano svanisce non svanisce osservi che la rabbia non svanisce pensi porca miseria dal video ho sentito che la rabbia doveva svanire non svanisce osservi il pensiero è osservazione un gioco di specchi anche qui un'osservazione continua dove tu sei semplicemente distaccato ti guardi ciò che sta accadendo qui ed ora e allora piano piano questa osservazione ti porterà sempre più dentro te stesso in questo gioco di specchi perché ti renderà anche conto che molti stati d'animo sono legati ad altri stati d'animo hanno avuto origine in altri stati d'animo ad esempio magari ti senti nervoso e non sai in quel momento che il tuo nervosismo è legato alla lite del capo ufficio che hai fatto il giorno prima riemerge semplicemente il nervosismo se tu osservi piano piano capisci anche la fonte di quel nervosismo solo attraverso la semplice osservazione diventa andare a ritroso e più si sa osservare più si va verso la fonte la sorgente ultima l'essere e come le bolle di sapone sono belle riflettono hanno il colore dell'arcobaleno così poi a un certo punto esplodono che non c'è più nulla e così tutti questi pensieri che attraversano queste sensazioni che sono come bolle di sapone sembrano reali poi attraverso l'osservazione svaniscono e dove c'era la bolla c'è solo uno spazio vuoto e allora osservare osservare come la mente si aggrappa a qualsiasi cosa come la mente non vuole mai cambiare perché vuole restare sempre ha bisogno di aggrapparsi all'ego a tal punto che l'ego dà l'illusione di una realtà stabile una realtà che invece è continua trasformazione il fiume di eratido scorre scorre in continuazione non si può scendere due volte nello stesso fiume ma l'ego no l'ego vuole fermare il fiume vuole bloccarlo come se fosse in una fotografia tutto deve essere stabile tutto deve essere fisso ci devo essere io un mondo fisso intorno a me questo è l'ego e questo è quello che la mente costruisce attraverso l'ego allora Buddha invece ti invita a guardare le nuvole a guardare le nuvole nel cielo a vedere che i pensieri sono come nuvole cangianti che non ti devi aggrappare ad essi e c'è sempre un cielo che è sempre lo stesso dietro le nuvole e che non cambia e quel cielo è il cielo della consapevolezza e invece le persone che vivono nella caverna di Platone che vivono in maglia si aggrappano guarda è la forma dell'orso quella nube voglio bloccarla no e quella cambia adesso sembra un un albero ah bello voglio che non cambi voglio pa svanisce la nuvola no è svanita questa produzione continua questo bisogno continuo di di aggrapparsi di solidificare la nuvola è nuvola e passa così è la mente il pensiero ha la stessa il simbolo della nuvola si adatta benissimo attraversa nasce la nuvola permane e poi svanisce l'impermanenza delle cose che puoi penetrare solo attraverso la giusta osservazione allora ecco andiamo verso la fine del sutra eh cosa pensi subuti che possa accadere alta tagata di pensare io ho dimostrato il dharma subuti chiunque dicesse il tatagata ha dimostrato il dharma direbbe falso darebbe un'idea sbagliata di me servendosi di ciò che non c'è perciò la massima giusta e perfetta illuminazione identica a se stessa mediante l'assenza di un sé di un essere di un'anima o di una persona ecco che Buddha dice ma se una persona dice ecco Buddha mi ha dimostrato il dharma direbbe il falso perché Buddha sta comunicando il suo silenzio in realtà non sta trasmettendo niente il discorso che abbiamo fatto anche nel video precedente non c'è un trasmissione ma c'è un riconoscimento dunque se qualcuno dicesse Buddha ha trasmesso questo ho capito il dharma perché me l'ha no Buddha dice no direbbe qualcosa di sbagliato non avrebbe capito ormai nella nell'interiorità di Buddha le forme sono scomparse non esistono più nuvole eh nuvole esiste il cielo incontaminato non c'è più forma ecco la vatuità non c'è più cambiamento tutti i sogni sono scomparsi ecco che Buddha è il il risvegliato la parola Buddha vuol dire risvegliato e pensate amici come questa esperienza ha convolto eh dalla Buddha 2500 anni fa pronunciò queste parole 2500 anni fa e ancora oggi ci sono parole di persone che si realizzano attraverso queste parole e questo è il grande dono che ci ha lasciato questo grande maestro nell'eterno presente in cui non luogo in cui dimorava questo eterno presente che il Buddha ci invita a conoscere direttamente attraverso le sue parole ed anche il Sutra del Diamante la playlist è terminata un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo Cosmo